Buonasera a chi ci ascolta, bentornati a Talk Sicilia, continuiamo la nostra maratona per raccontare i protagonisti di questa campagna elettorale che ci vedrà impegnati con il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana il prossimo 25 settembre. Uomini e donne che si candidano a governare la nostra terra e quindi è il nostro obiettivo fare conoscere le storie prima ancora che i loro progetti politici. Oggi abbiamo un ospite veramente eccezione perché è un uomo che sul suo territorio ha raccolto sempre negli ultimi anni molto consenso e ha veramente trasformato in meglio il posto dove vive e dove lavora. Benvenuto a Giosuè Magnaci, sindaco dei Terrasini. Piccola presentazione, breve, candidato con Fratelli d'Italia per il rinnovo di questo Parlamento regionale. Prima domanda, non sente un po' di nostalgia nel dover probabilmente rinunciare alla carica dei primi cittadini a cui lei tiene tanto se dovesse essere eletto? Sì, ma infatti non rinuncerò alla carica dei primi cittadini perché la legge consente dei comuni sotto i 15 mili cittadini. Ma riuscirà a reggere questo doppio impegno? Sì, certo, perché intanto c'è un'ottima squadra che mi sta collaborando, quindi io non amministro da solo, amministro con un gruppo di ragazzi che ci stiamo mettendo il cuore in quello che facciamo. E poi lo vogliamo fare, perché ci rendiamo conto che da piccola comunità con i problemi che abbiamo negli enti locali, piccoli comuni, vogliamo essere più attenzionati, vogliamo crescere, vogliamo che la politica regionale guardi ai comuni e ai territori in maniera diversa rispetto al passato. Quindi c'è tutta la nostra voglia di continuare intanto ad amministrare, non l'avrei mai fatto, se no non l'avrei mai fatto perché... Bisognava capire, si raddoppia il suo carico di lavoro? Si raddopperà indubbiamente, però io sto facendo il sindaco H24, poi il sindaco nei piccoli paesi viene chiamato in causa per qualsiasi discussione, però troveremo il modo come continuare a essere presenti e continuare a portare un valore aggiunto alla nostra comunità e al nostro territorio. Possiamo dire che la sua candidatura vuole essere anche una testimonianza per dimostrare che c'è bisogno di maggiore attenzione nei confronti dei territori marginali rispetto alle grandi città? E' principalmente questa. Poi io lavoro a Palermo, quindi so anche i problemi della città di Palermo, mi confronto con gli altri sindaci e quindi capisco i problemi della provincia di Palermo, ma noi il nostro territorio già da anni, da Isola delle Femmine ad arrivare fino a Trappeto, non esprime più un deputato di questi paesi che non solo è originario di quelle zone, ma che vive, perché io sono sempre convinto che se tu vivi un territorio e quindi frequenti le scuole, frequenti le autostrade, capisci quali sono i nostri limiti, alla fine ti rendi conto di tutte le attenzioni in cui noi abbiamo bisogno. Quindi non soltanto testimonianza, ma anche proposta perché si conoscono quali sono le criticità delle zone. Certo, io porto a vantaggio della mia candidatura l'esperienza fatta da sindaco che si è impegnato in questi anni a cercare di stare intanto a ripulire un paese, a riqualificarlo, a saperlo presentare in maniera diversa rispetto al passato con tutto quello che abbiamo fatto, con le installazioni, con la riqualificazione. Peraltro Terrasini, questo lo dico a nord del vero, è veramente un croggiolo di iniziative fantastiche che vanno dall'agroalimentare alla cultura e ci sono delle bellissime ristagne letterarie. C'è anche questa tensione nel segno dell'antimafia, il lungomare dedicato a Peppino Impastato. Noi, vi porto alcuni numeri per farvi gli esempi e poi sono gli esempi come si è cresciuti in questi anni. Io mi sono insediato, il comune recuperava 35-40 mila euro l'anno di tassa di soggiorno, noi oggi recuperiamo più di 300 mila euro l'anno. Quindi ha decubblicato il fatturato turistico, chiamiamolo così, del comune. E impegniamo tutta questa cifra, buona parte di questa cifra, alle iniziative culturali, alle manifestazioni per l'intrattenimento. Un paese se vuole vivere di turismo deve anche proporre, deve anche offrire ai nostri visitatori e anche ai nostri concittadini la possibilità di uno svago e quindi ci sono dalle presentazioni dei libri, alle iniziative musicali, al teatro, al cinema all'aperto. È molto effervescente anche nel settore agroalimentare, Terrasini, con delle grandi realtà delle grandi realtà perché hanno investito, abbiamo un grosso biodificio che fa parte oggi della nostra comunità e quindi stiamo dando aiuto ai caseifici, a tutte le prodotte, a chi nella zona del Partinicese ha investito sul vino e quindi noi apriamo, ecco uno dei segreti, dovrebbe fare la politica. Diciamo quindi lei non si cambia soltanto come sindaco del territorio Terrasini, ma di un territorio più ampio, quella zona che diciamo che va verso Trapani. Se lo voglio fare, lo voglio fare proprio per questo motivo, perché mi rendo conto che tutta questa fascia costiera, ma anche l'entroterra da noi, è da anni considerato di serie C, è da anni considerato e non all'altezza invece delle proprie aspettative, così come è giusto che sia. Le faccio un esempio, la metropolitana arriva a Cardilo, cioè arriva a prima di Villa Grazia, prima di Carini e si ferma, perché la metropolitana non dovrebbe continuare fino a Balestrato, fino a Trappeto, fare Cini, Terrasini, Partinico, Balestrato e Trappeto. Teoricamente servirebbe un servizio interconnessione anche fino a Trapani se vogliamo creare una realtà. Quello posso capire che ci vorranno, ma questo è molto più semplice da fare anche nell'immediato. Però mi perdoni, se lei immagina un'estensione della metropolitana, lo fa anche perché ritiene che sia necessario entrare nell'alveo della città metropolitana? È importante per i nostri ragazzi, per levare i disagi dei nostri pendolari, è importante per defluire il traffico viario, noi abbiamo solo un'autostrada che è completamente sempre intasata, è importante per dare servizio al turismo. Sì, la 29 è il calvario, di domenica è impossibile. Per andare all'aeroporto tu incontri quello che incontri tutte le giornate, quindi tu devi dare i servizi base, i servizi base se vuoi fare turismo sono anche i trasporti e le comunicazioni, così come è importante i nostri porti, tutti i nostri porti, nessuno di questi posti è stato adeguato negli ultimi anni. Da quanti anni non si fanno ristrutturazioni nel settore? Da tantissimi anni. Ma una vocazione soltanto turistica o anche peschiera? No, turistica e con i pescherecci, sono porti pescherecci e porti turistici, cominciare da Terrasina, Cinesi, da Trappeto, da Balestrate, tutta questa fascia soffre di questa mancanza di investimento sui porti. Quindi non è che mi candido perché ho questa ambizione, io mi candido perché mi rendo conto che se vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo essere attenzionati dalla politica regionale. Parliamo anche di un aspetto fondamentale nella gestione dei territori, le risorse finanziarie. L'Eda Sindaco sicuramente ha impattato con i tagli che negli ultimi anni hanno messo in grave difficoltà tutti i comuni, non soltanto quelli siciliari ma un po' in tutta Italia, le nuove leggi, non danno grande spazio finanziario e spazio di risorse ai comuni. Come ve la siete cavata nell'approccio come Sindaco e Terrasini e che soluzioni può dare tramite la legislazione regionale per far sì che ci sia un impatto finanziario meno dannoso nei confronti dei comuni? Col federalismo fiscale i comuni hanno sofferto i tagli perché il comune in teoria dovrebbe farcela quasi con le proprie risorse, quindi in teoria aumentare i tributi ai propri concittadini, cosa che noi non abbiamo fatto in questi anni, noi non abbiamo mai aumentato di un centesimo, di una lira ai nostri concittadini, abbiamo solo dato la possibilità agli imprenditori, a chi vuole investire in regola, a chi vuole fare impresa, di essere messo nelle condizioni ideali di poterlo fare e allora abbiamo dato ossigeno alle imprese edili perché abbiamo sbloccato tanti comparti e tante lottizzazioni del piano regolatore, abbiamo dato possibilità ai ristoratori di utilizzare il suolo pubblico, di utilizzarne abbastanza in modo tale da offrire… Questo immagino l'abbiate fatto subito dopo la vicenda Covid per dare la possibilità di riprendere? Era da prima, già da prima abbiamo continuato anche dopo il Covid, stiamo continuando a promuovere il nostro paese partecipando alle fiere nazionali e internazionali del turismo, abbiamo comprato uno spazio proprio con Enit e ci siamo fatte fiere in Europa, io non lo so se è servito se non è servito, sta di fatto che comunque quest'anno siamo stati pieni di turisti, il tour operator oggi attenzionano il nostro paese, quindi rispetto al passato c'è un'attenzione particolare e diversa, è perché non mettere in rete tutti i paesi del comprensorio che vanno da Isola fino a Partinico, a Balestrato, a San Cipirello, a San Giuseppe Iato, a Carini, noi abbiamo tantissimi… Perché mettere in rete significa mettere in rete anche i valori… I valori del nostro territorio e farli conoscere, partecipare insieme alle fiere e avere uno spazio dedicato anche a questo… lo fanno nelle Madonie, lo fa Cefalu con i paesi vicini, lo fa Palermo, non ci riusciamo noi, non ci riusciamo noi perché siamo piccoli in realtà e bisogna che… Poi durante l'estate superiamo le 300, le 400 mila presenze, quindi abbiamo dei numeri alti, noi abbiamo gli alberghi, abbiamo Città del Mare che in questo momento ha fatto più di 2 mila presenze al giorno, abbiamo il Golfo che supera le 800, 900 presenze al giorno, abbiamo 200 BNB, quindi noi 5 per mercati, un porto… Cioè noi ormai non ci definiamo più piccoli, però stiamo con i piedi per terra, ma io sono contento perché quello che siamo riusciti a fare in questi anni è proprio dare ossigeno agli imprenditori che hanno dato la possibilità di dare posti di lavoro. Il risultato poi lo abbiamo visto alle scorse elezioni amministrative, quando lei, come dire, è stato… mi dicono colleghi che conoscono bene la zona che non c'è nessuno che si volesse candidare contro di lei, perché dicevano ma è stato così bravo, maniaci, come facciamo a candidarci? Alla fine poi… Quanto è stato il successo, la percentuale di Vittorio? È quasi l'84%. Altro che bulgaro, è proprio sovietico, una percentuale sovietica, ma a proposito di sovietico, la sua collocazione politica, ce la racconto un po' nel corso degli anni, perché ci sono state un po' di polemiche in realtà, io vorrei che lei ci raccontasse come stanno realmente le cose perché lei rivendica una sua coerenza comunque. Ma esattamente. Lei diventa sindaco o quando? Io nel 2015, nel 2016, decido con un gruppo di amici, sono figlio di un ex sindaco democristiano, quindi la politica ha fatto il consigliere comunale in una lista di centro e ho sentito il bisogno di partecipare all'elezione da sindaco, perché ho capito che era il momento giusto per cercare di dare un cambiamento al mio paese. Con un gruppo di amici creiamo un movimento, facciamo delle liste civiche, in quel momento il partito di governo era il Partito Democratico, mi confronto con il Partito Democratico, facciamo le primarie, le vinco io, quindi vinciamo le elezioni insieme e parte questa esperienza amministrativa. I ragazzi che erano in quel partito poi cambiano, vanno con Renzi e formano Italia Viva, quindi loro sono stati già a fare una scelta diversa. Senza pregiudicare però la tenuta della sua maggioranza. No, assolutamente, abbiamo amministrato benissimo insieme. Perché comunque quelle dimensioni nazionali poi alla fine sui territori non si riflettono, contano poco. Là conta il rapporto diretto. Ma noi siamo rimasti sempre con le liste civiche. Poi io partecipo alla competizione regionale di 5 anni fa, con la lista del professore Micari, la lista dei territori fatta da Orlando, prendo 4.500 voti quasi, tanti voti, e non mi servono a niente perché poi quella lista non supera il 5%. Quindi già questo è un fatto che oggi… Cioè se si fosse candidato con un altro partito già probabilmente… No, la storia sarebbe andata… Però mai recriminare perché poi si sarebbe perso un bellissimo pezzo di storia di Tarrasini. Abbiamo fatto un'esperienza. Oggi io negli ultimi mesi ho in interlocuzione con il governo Musumeci, col presidente Musumeci, inizia un cammino, il presidente prende degli impegni concreti per il nostro paese, per il nostro territorio, tant'è vero che l'ultima sua uscita pubblica ufficiale la viene a fare a Tarrasini. A questo non me lo ricordavo. È venuto a Tarrasini l'ultimo giorno proprio del suo mandato. Sì, è vero, è vero. Ha portato un valore aggiunto perché noi avevamo un finanziamento per un sottopassaggio bloccato da anni, siamo riusciti a sbloccare questo finanziamento con tutti i progetti, con tutti i pareri e inizia un discorso. Io ho a che fare, mi sono confrontato con persone serie e coerenti che hanno mantenuto una linea in questi anni. Ho deciso di transitare, ho conosciuto gli uomini di Diventerà Bellissimo, ho conosciuto del Presidente Musumeci, ho deciso di candidarmi, di schierarmi con loro, intanto perché ho avuto a che fare con gente seria, che hanno mantenuto impegni concreti e poi perché sono convinto che sarà il partito a livello nazionale. Diventerà bellissimo poi, lì si è confluita dentro Fratelli d'Italia. Sono convinto che vincerà a livello nazionale il centrodestra, sono convinto che a livello siciliano vincerà il centrodestra e la mia scelta è stata una scelta di campo con queste persone, perché voglio continuare ad amministrare il mio paese, nello stesso tempo a portare un valore aggiunto, nello stesso tempo ad avere quelle risposte… Faccio una domanda un po' provocatoria, e se poi visti i risultati che ho ottenuto, il Presidente Schifani, se dovesse essere eletto Senatore Schifani, le dice a sé, senta Maniaci, lei è così bravo a sviluppare il turismo, vado a fare l'assessore al turismo, lei che fa? Si trova con le spalle al muro, chi gliela porta questa notizia a Terrasini? No, no, ma guardi, quando uno lavora con passione, mette passione, può fare questo e altro. Per me, io sono convinto che per i terrasinesi, ma anche per le persone di Cinesi, di Partinico, avere un deputato regionale che abbia un ruolo ed essere di quelle zone può fare solo bene al territorio, può fare bene solo ai nostri paesi, quindi non mi creo nessun problema a poter fare… Però ha svicolato la domanda, sta cercando di evitare, in ogni caso, non è disponibile per ruoli di governo, perché già governa quello che le piace di governare. Ma guardi, io voglio arrivare all'obiettivo, perché se mi sto candidando mi sono per arrivare all'obiettivo, l'obiettivo è quello di fare il deputato regionale per portare le istanze nel territorio e soprattutto per continuare a chiedere quei servizi, quell'infrastruttura, sì, è quello che dobbiamo fare, siccome è giusto che sia con ogni territorio, rivendica, chiede… Ma non c'è nulla di male a fare una politica, in America la chiamo attività di lobbying, ma la lobbying a favore del territorio non è soltanto più che legittima, ma anche necessaria, perché altrimenti poi se si centralizza tutto, poi la voce del territorio scompare. Il territorio scompare e poi noi possiamo metterci insieme per gestire tanto, tanti servizi, avere veramente qualcosa in più. Ora però andiamo, apriamo un capitolo scottante, le risorse finanziarie, è inutile, lei, amministratore pubblico, sa meglio di me, perché lo vive giorno dopo giorno, che di risorse ce ne sono pochine. Nel suo programma elettorale, la domanda è questa, si fa riferimento al piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo lei andrebbe ritoccato, andrebbe rivisto, si dovrebbe dare più spazio ai comuni, si dovrebbe dare più risorse umane ai comuni, qual è la licetta per fare in modo che questa ultima chance che ci dà l'Unione Europea non venga sprecata. La ricetta è proprio questa, continuare a dare le risorse per la progettazione, noi siamo stati fortunati perché abbiamo avuto assegnato un tecnico che sta lavorando ai bandi, ma lavorare ai bandi e per non lavorare alla progettazione per le opere non ti agevola, quindi i comuni devono essere messi nelle condizioni di avere le risorse finanziarie e il tempo, perché non può uscire un bando, una scadenza a 15 giorni, a 30 giorni, non siamo pronti, allora dovete dare un minimo di tempo e la politica questo deve fare, se deve venire incontro alle realtà deve dare lo strumento finanziario per poter partecipare a queste risorse e quindi c'è il modo, i soldi sono tanti soldi, però bisogna dare anche assistenza, se no facciamo chi aveva già i progetti pronti o la città che è chiaro che abbia… Ma anche le grandi città hanno grossi problemi a gestire il PNRR, però hanno anche altri strumenti rispetto a una piccola comunità. Però rispetto alla dotazione finanziaria che ha la regione, gli enti locali, non c'è il rischio che il PNRR non venga considerata una misura integrativa, ma che vada a colmare le lacune, per esempio la programmazione normale dei fondi comunitari? No, ma infatti non deve essere, non deve fare la normale amministrazione, deve servire per quelle cose in più, per sapere le opere strutturali, porti, autostrade, ferrovie, qualcosa di grosso, per questo dico… Mi sembra di capire, perché ora il cerchio si sta chiudendo della sua, chiamiamola per quello che è, per la sua proposta politica, quindi sostanzialmente lei è la voce del territorio, la possiamo definire così, che vuole come dire trovare, vuole essere l'antenna per fare in modo che quei servizi e quelle infrastrutture che mancano a quel bacino di utenza vengano realizzate, anche attraverso quelle risorse finanziarie, anche attraverso un'attenzione particolare. Le faccio un esempio per esempio sull'aspetto sanitario del nostro territorio, noi abbiamo l'ospedale di Partinico, in questi anni, specialmente subito dopo il Covid, non si è pensato al potenziamento di questa società, anzi al contrario, tanti servizi mancano, è perché, c'è un dia che abbiamo un bacino di almeno 100.000 abitanti, vorremmo che quell'ospedale torni a essere punto centrale di attenzione per il nostro territorio. Abbiamo il RIMED e l'ISMET 2 a Carini, due centri di eccellenza, ma se andiamo a guardare i servizi programmati non sono all'altezza ancora della situazione, quindi tutte le strade di accesso, l'ospedalità, abbiamo due centri di eccellenza mondiale per la ricerca scientifica sanitaria, ma se arriva il professore da Pittsburgh si trova come dire… Non so, dove andare a dormire, a mangiare o come arrivarci. No, a dormire e mangiare magari sì, ma non arriva al centro, magari si perde le… Dobbiamo attenzionare queste zone, vanno attenzionate perché questo territorio si deve sviluppare nell'interesse di tutti, deve essere un valore aggiunto per chi ha deciso di vivere ormai in questa parte di Sicilia occidentale, nello stesso tempo i nostri comuni hanno diritto come tutti gli altri, per carità. Lei racconta la storia del suo territorio con molta serenità, si vede che c'è nel cuore batte amore per la sua terra e per il suo territorio e per il paesaggio meraviglioso che quei territori esprimono. Ma proprio facendo tutte queste riflessioni sulle difficoltà che ci sono, sulla necessità di creare sviluppo economia, che messaggio lancia ai giovani che per la prima volta vanno a votare? Sappiamo bene che ci trovo di fronte alla generazione dei… come si chiamano… i net, con questi che non hanno né arte né parte, come facciamo a fare in modo che non ci sia nuovamente questo flusso migratorio che… Io porto ad esempio quello che siamo riusciti a fare nel mio di paese, che dando ossigeno, dando fiducia agli imprenditori e ai commercianti… I ragazzi restano a lavorare? No, si sono creati tantissime opportunità di lavoro e tantissima occupazione, anche se è un periodo stagionale, ma stiamo cercando di farli lavorare tutto l'anno. tempo, quindi non è che nelle cose non si possono fare, bisogna stare accanto a chi vuole investire, quando si parla di defiscalizzare, dare gli strumenti diversi, si trova questo, cioè tu, non è che continuiamo ad aumentare le tasse a un imprenditore, dobbiamo cercare di fare in modo che l'imprenditore venga agevolato e assuma, tutti si scandalizzano se si parla del reddito di cittadinanza, ma se questi fondi vengono rimodulati… Lei come la vede questa cosa del reddito di cittadinanza? Infatti dico, è uno scandalo parlarne, non se ne può parlare, ma se questi soldi venissero dati all'impresa, venissero dati a chi assume, venissero defiscalizzati… Ovviamente con i controlli rigorosi, solo l'utilizzo… Noi dobbiamo dare il lavoro alle persone, la cosa importante è dare il lavoro… Credo che sia scritto anche nella Bibbia, una cosa di queste… Dare il lavoro e dare dignità al lavoratore e alla famiglia, questo deve essere l'obiettivo di chi fa politica… Quindi, buona sintesi, reddito di cittadinanza sì, però con un meccanismo che crei occupazione… Ma che crei occupazione, certo… Cioè facciamo, diamo queste risorse attraverso le aziende così… Di lavoro, non con i soldi gettati a pioggia, anche perché non credo che si possa continuare a dare il reddito di cittadinanza all'infinito, tra l'altro in Sicilia credo che sia il record mondiale… E quindi noi dobbiamo modificarlo e dare la possibilità a chi vuole investire in regola rispetto alla legge, della legalità, però creando occupazione. E questo noi in piccolo ci siamo riusciti, infatti da noi è difficile che qualcuno ti cerchi lavoro in questo periodo, poi molti hanno investito sui B&B, sulla gestione, quindi ci stanno anche i servizi, il noleggio… E per destagionalizzare il turismo, perché capisco che con si mangia bene, territorio meraviglioso, ovviamente bisognebbe creare le premesse affinché il turismo sia per lo meno per dieci mesi l'anno, no? Guarda, io sono stato una mezz'oretta a Borgo Parrini, a Partinico, lì hanno creato questo Borgo, si sono reinventati e sta funzionando, quindi non è che non abbiamo esempi positivi di sapere promuovere il territorio dello Zucco, il territorio della nostra fascia costiera, quindi bisogna mettersi in rete, bisogna mettersi in rete, noi soffriamo di cattivo tempo, non mi pare. Io non so, farò un endorsement per Giuseppe Magnaci, perché comunque la serenità con chi parla, lei mi ricorda tanto uno slogan della campagna elettorale delle presidenziali francesi del 1984, mi perdoni la citazione, la forza tranquilla era lo slogan del presidente francese François Mitterrand, lei ha questa caratteristica, si capisce l'autorevolezza delle sue argomentazioni, ma le espone sempre in maniera serena, ed è difficile in questi tempi, in campagna elettorale con i suoi avversari, con i suoi competi, com'è il dialogo? Per adesso se le danno di santa ragione, magari chi si candida alla presidenza se le dà più di santa ragione, ma tra voi concorrenti, competitor all'assemblea? Devo dire che da noi non ci sono tanti candidati in quella zona, abbiamo qualcuno a Cinese, qualcuno è un appartinico, però purtroppo c'è molta sfiducia, non è che tanta gente è sfiduciata della politica, l'assenzionismo come siamo messi? Io penso che sarà molto alto, ed è un peccato sinceramente, perché se c'è l'opportunità di cambiare, se c'è l'opportunità di provare a portare gente nuova, a dare risposte nuove, l'occasione giusta è quella delle elezioni in questo momento, il 25 settembre. Il tempo a nostra disposizione è finito, io ringrazio Giuseppe Agnaci per questa amabile conversazione, in bocca al lupo, noi diciamo siamo equidistanti, però insomma ci piace conoscere i competi, credito, viva, è importante che… In bocca al lupo! Ah, ho detto un altro, posso dire l'ultima cosa? Certo, ci mancherebbe. In questi anni nel mio piccolo programma ho dedicato una parte proprio agli animali, per dare voce con un ufficio proprio dedicato, ne abbiamo fatto un presidio sanitario per l'esterizzazione, abbiamo abbottuto di tantissimo il randaggismo, ho fatto una convenzione con l'ASPE, con un'associazione di volontari e vorrei creare all'interno dell'Assemblea regionale un ufficio dedicato agli animali. Ecco, con questo appello anche per i nostri amici PETS, salutiamo Giuseppe Agnaci, un grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Talk Sicilia per questa lunga maratona sulla campagna elettorale, dedicata alla campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea regionale Ticiniana al 25 settembre. Grazie a voi e buona serata. Grazie a tutti